Grazie a tutti. 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 Il G20 Africa Partnership ci aiuta a raggiungere gli obiettivi dell'agenda africana, il compact con l'iniziativa africana è un pilastro molto importante del G20 Africa Partnership. L'obiettivo è quello di creare una serie di condizioni per migliorare gli investimenti privati. Vogliamo incoraggiare la collaborazione tra i paesi africani, le istituzioni finanziarie a livello internazionale, i partner del G20 e potenziali investitori. Abbiamo bisogno dei paesi africani se vogliamo raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030 attraverso questa partnership e vogliamo investire nel nostro futuro comune. G20 Africa Partnership, investire in un futuro comune. Signore e signori, ancora una volta benvenuti alla conferenza internazionale G20 Africa Partnership, investire in un futuro comune. Voglio cogliere l'opportunità ancora una volta per dirvi che c'è la traduzione simultanea in quattro lingue. Canale 1 tedesco, canale 2 inglese, canale 3 francese, canale 4 arabo. Ovviamente è una conferenza così importante che abbiamo due hashtag, G20 Germany, che ovviamente è l'hashtag per tutta la presidenza tedesca del G20. e W Africa per oggi. Prima di partire, signore e signori, lasciatemi dire che ci sono dei musicisti fantastici dello Zimbabwe, Sudafrica, Ghana, Svizzera, Stati Uniti, Filippine e Turchia che garantiranno il sottofondo musicale. Tutti questi musicisti si sono incontrati tre giorni fa, incredibile a dirsi. Ho già avuto l'opportunità di ascoltarli. Diamo un benvenuto a questi musicisti fantastici. ми puckonoere, fer aí, troppo. offenses è rile, famosa, maui, 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 maui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signori, iniziamo. Abbiamo molti capi di Stato qui tra il pubblico ed è un grande piacere e un onore dare la parola al Cancelliere della Repubblica Federale di Germania. Signore e signori, la Cancelliera Merkel. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Angela Merkel. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. ci hanno provato. e tutti. 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 tutti. e 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 tutti. e... e... e tutti.